Ho premesso che erano alcune, infatti è molto nutrita come abbiamo detto. Per spiegare questo discorso basta pensare a un negozio che ha 40 metri quadri, che ha una superficie di vendita di 5 metri quadri. Il 25% di 5 metri quadri vuol dire che questo negozio avrebbe avuto un metro quadro magari a disposizione per il consumo sul posto e avrebbe dovuto chiudere. Allora noi siamo qui a tutelare non solo i cittadini ma anche le attività produttive. Poi capisco che ci siano consiglieri che vogliono tutelare più una parte che un'altra, però la proposta va a tutelare tutti e a creare un equilibrio, come ho detto prima, tra i cittadini e le attività produttive.